Francavilla Life è un'offerta che proponiamo ai cittadini e ai turisti che arrivano a Francavilla. È una nuova proposta di turismo esperienziale che per la prima volta approda a Francavilla grazie al Tour Operator e Bike Life. Si tratta di un'esperienza di oltre 100 percorsi e itinerari da fare sul nostro territorio, anche nel territorio limitrofo per conoscere non solo la nostra costa ma anche le nostre contrade, le nostre colline, i nostri luoghi culturali, farlo attraverso tanti mezzi perché si può fare a piedi, in bicicletta, con il Segway e con tanti altri mezzi, bici elettriche e così via. Ma diciamo che è un'offerta che abbiamo voluto proporre ai nostri residenti e ai turisti anche tramite le strutture ricettive, e quindi albergatori, ristoranti, operatori economici e turistici in genere potranno offrire questo servizio, fare questa proposta a coloro che verranno a Francavilla. Si tratta di un'esperienza innovativa che andrà a caratterizzare l'estate di Francavilla dell'anno 2022, della mia amministrazione. Francavilla ha sempre avuto un'ampia proposta turistica tramite concerti, musica, filosofia e così via. Questa si aggiunge, è una proposta innovativa che secondo me proprio va in linea con il turismo esperienziale che ormai le persone cercano. Parte dal 23 giugno, ci sarà l'open day, anzi invito tutti a partecipare, ci vediamo il 23 giugno alle ore 19 con partenza dalla stazione di Francavilla, faremo una bella passeggiata alle nostre contrade, poi torneremo e ci sarà un aperitivo per festeggiare e dare avvio a questa bellissima iniziativa.